Sì, per tenereci in forma. Ragazzi, a me piace molto la mia forma. E tu saresti in forma. A me sembri un doppio sacco di patate. E questo è il modo di trattare un amico? Stai attento, mi hai colpito proprio il super... Ma smetti là, tu solleva quel peso. È piuttosto pesante. L'altro peso, cretino. E tu prendi da quella parte e tu da quell'altra. Senta, sbrigati. Allora, siete pronti? In alto. Uno. Mi dispiace, mi dispiace, è stato un incidente. Naturalmente, tutti sanno che è stato un incidente. Ma fai in modo che non accadrà! Tu, tira su quell'attrezzo! No, è pesante. Mamma mia, c'era. Carligio, sbattigli la una mano. C'è un attretto, anzi glielo sbatto tutte e due. Ma no, no, no! Aiutalo a sollevarlo! Tu da quella parte e tu da questa. Per me è roba da ridere! Insomma, è una disperazione. Facci piano, eh! Come volevasi dimostrare? Va bene, va bene. Abbiamo alzato troppo? Troppo poco, vorrei dire. Sai cosa devi fare per migliorare? Esercizi di respirazione profonda! E fatti da una parte! La respirazione profonda! Espirare Inspirare Espirare Inspirare Espirare Inspirare Espirare Inspirare Trattenere 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 Il disco dice di trattenere, perciò trattenetevi! Trattenere Così va bene Trattenere Trattenere Eravamo i migliori atleti del nostro tempo! A dire il vero, la nostra storia comincia nelle distese sconfinate del deserto di Shawufa, dove tre coraggiosi legionari erano arrivati a destinazione. È stata una marcia lunga e faticosa, ragazzi, ma siamo arrivati a Fort Mirage, dove siamo stati chiamati in missione. Come mai, voi? Per combattere il flagello del deserto, è il Zyder il terribile! È il Zyder il terribile! Grazie al cielo siamo arrivati in tempo! Sì, il terribile Zyder non ci scapperà, ecco! Soldati Larry, Moe e Carly Joe a rapporto, signore! Andate a fare i Boy Scouts da qualche altra parte! Il Zyder il terribile! Scappate, ragazzi! Forse vi aspettavate di trovare qui, Ulbiner? Che cosa facciamo, voi? Nascondiamoci dietro la duna più vicina, cretini! Mi sembra molto vigliacco, ma sicuro! Credo che questo ci faccia passare ogni velleità, Moe! Al diavolo! Dobbiamo riconquistare il forte e imprigionare il Zyder! Tutto in un giorno! Seguitemi, ragazzi, lo raggiungeremo! Così sono diventati violenti, eh! Questo li fermerà! Guarda lassù! Ci vuole ben altro che questo! Per farci fermare! Giusto! Carica! Basta con le azioni affrettate! Immaginavo che sarebbe successo! Mi catapulterò sul muro e aprirò il cancello per farvi entrare! Tutto a passo qui! Taglia la corda! Corda! Tagliata! Scommetto che quello funge! Questa volta facciamo sul serio, cretini! State vicini alla corda e tagliatela! Di nuovo tutto pronto! D'accordo! Tagliate la corda! Corda tagliata! Eccolo là! Non dimenticarti di scrivere! Molto sfiditoso! È ferito! No, è atterrato sulla sua testa! Sei sicuro di volerci riprovare? Lasciamo stare, cretini! Taglia la corda! Corda tagliata! Pensi che il nostro capo ce la farà stavolta? Ecco, vi aiuto io! Ciao! Grudere ma efficace! Come ti è venuta un'idea simile, Moe? L'ho visto al cinema! C'erano dei greci che si nascondevano in un cavallo di legno! Spero che funzioni! E chi potrebbe mai sospettare di un cammello nel deserto di Savoia? Tu ti preoccupi troppo! Sei molto furbo! Eccoci qua! E cos'è questo? Possibile che tu lo sappia riconoscere un cammello innocuo, amico? Non sei soltanto ridicolo ma anche troppo grassone! Vola via, impostore! Attento a come parli, ragazzo! Per la vostra insolenza io vi taglierò il fegato e anche il cuore! Andiamo, cretini! È ora di fuggire! E mi raccomando, non tornate più se ci tenete alla vostra lurida pellaccia! Bene! Se ne sono andati sul serio! È stato un piano strategico, mon capitel! Fingersi al zaider per far ritornare spaventati quegli stupidi soldati alla loro civiltà! Certo! Ricorda che per la patria bisogna fare qualsiasi sacrificio! E inoltre devo riconoscere che mi sono divertito! Trattenere! 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 Tratte... Va bene! E... Va bene, va bene! Siete bravissimi! Però adesso tirate sugli attrini! Oh no, è troppo pesante! Sì, è così pesante che non riusciamo a prenderlo! Eppure il mio braccio è un po' pesante! Ma che muscoli! Ehi, quelle carecca devono essere dinamite, ragazzi! Sì, lo vendo anch'io! Ecco a voi, ragazzi! Vediamo, eh! Coraggio, vediamo i risultati, presto! Sì! E' alto! Niente male, vedi? Ehi! 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 Grazie a tutti.